Ripatte la promozione shock al supermercato Sigma dal 16 al 29 novembre su il risparmio. Tanti i prezzi shock. Valgrana del Piemonte a euro 6,50 al chilo. Minestrone Findus euro 1,79 al chilo. Galbanino Galbani da 550 grammi euro 3,49 al pezzo. Passata di pomodoro pomiglia da 700 grammi a soli 55 centesimi. Ma le offerte continuano al Sigma con Kinder Delice confezione da 10 pezzi a soli 2 euro. Kellogg's Coco Pops da 375 grammi a soli 1,99 euro. Caffè Kimbo aroma italiana a 4 pezzi da 250 grammi a 5,98 euro. Corri al supermercato Sigma di Marina di Camerota dal 16 al 29 novembre sul risparmio.